Ok, allora proviamo a vedere questo altro esercizio che parla della slitta di Babbo Natale e del fatto che Babbo Natale si è fatto aiutare da un programma in Python per consegnare i regali Allora parte dicendo che abbiamo un file bambini.csv che contiene l'informazione su tutti i bambini a cui è necessario consegnare un regalo e ciascun bambino è rappresentato nel seguente formato quindi abbiamo un elenco di bambini che sono qua che sono elencati qua cognome e nome, il regalo che vuole e la provincia in cui questo bambino abita i bambini nel file compaiono in un ordine qualsiasi, in un ordine arbitrario Per ottimizzare il viaggio è necessario minimizzare gli spostamenti tra le province cioè evitare che questo Babbo Natale faccia Trento, Messina, Torino, Brindisi eccetera avanti e indietro per l'Italia cercare di dargli un percorso più o meno ragionevole in particolare il programma dovrà realizzare il seguente algoritmo che di per sé non garantisce il minimo assoluto che richiede delle competenze e del tempo di calcolo che non abbiamo ma insomma è un'approssimazione selezionare come primo bambino quello che abita più a nord di tutti perché lui arrivando dal polo nord chiaramente trova in contra per primi i bambini del nord una volta consegnato il regalo a un bambino quindi lui cerca in tutta Italia quel bambino più a nord e glielo consegna poi dopo che ha consegnato questo lui cerca il prossimo bambino, il bambino successivo trovando quello non ancora visitato che si trova più vicino al bambino appena visitato quindi lui ha visitato un bambino che sarà dove sono queste province? Venezia, Roma, Torino, Messina, Palermo, Roma, Bari, Venezia direi che è più a nord di tutti quindi consegna la bacchetta a Harry Potter dopodiché si chiede tra i bambini rimanenti qual è quello più vicino per cui devo fare meno strada adesso non vi saprei dire a occhio se da Venezia sono più vicino ad andare a Torino oppure non c'è un Bologna probabilmente a Torino e poi così via quindi ogni volta devo trovare il bambino più vicino rispetto alla posizione in cui mi trovo come faccio a sapere queste distanze? qual è il bambino più vicino? per il calcolo delle distanze il programma si avvale di un file province.csv che avevo scaricato se non avvale da lista o qualcosa del genere che contiene i dati delle province nel seguente formato ce ne abbiamo sotto id, di regione, codice, città eccetera eccetera ma c'è la sigla della provincia e ci sono le coordinate latitudine e longitudine di tutte le province quindi noi sappiamo che se ho consegnato a Venezia vuol dire che mi trovo grosso modo vabbè qui non c'è Venezia nelle coordinate relative alla provincia di Venezia e dovrò cercare la città più vicina conoscendo le coordinate di tutte le città per determinare la distanza tra due punti quindi le ultime due colonne sono riportate le coordinate espresse in gradi per determinare la distanza tra due punti quindi io ho un punto che è dove sono arrivato gli altri punti che sono tutte le città possibili devo calcolare la distanza tra questo punto e tutti gli altri o le coordinate di questo punto o le coordinate degli altri punti si tratta di applicare una formula che essendo la terra curva non è il terreno di Pitagora non è il terreno di Pitagora ma c'è scritto qua la formula da applicare per determinare la distanza tra due punti si utilizzano le seguenti formule io non ho capito perché a questo esame molti sono andati in palla quando hanno visto queste formule quando invece ad analisi li tartassano con delle cose che sono cento volte più complicate ma qui c'è una formula da prendere e copiare essenzialmente io so capire come usarla in che punto devi usarla però se fosse il terreno di Pitagora se fosse A meno B la distanza tra due punti quello è poi si calcola in un modo più complicato perché c'è la curvatura terrestre e vabbè mi dicono come calcolarlo quindi non sto neanche a guardare queste formule mi dicono che se io ho due punti A e B di cui conosco la latitudine la latitudine di A e la latitudine di B delta lat che è la differenza tra due latitudini e dove sono le due ah longitudini qua delta long che è la differenza tra due longitudini li metto in queste formule e mi esce fuori la distanza ci sono dei segni dei coseni degli arseni delle radici quadrate ma vabbè dai mica le dobbiamo calcolare a mano ci sarà la libreria matematica che ce le fa e poi attenzione che le formule qua ovviamente lavorano in radianti e noi nella tabella abbiamo i dati in gradi e vabbè ho addirittura scritto questo fine cosa devo stampare? devo stampare dicendo come prima cosa consegno la bacchetta ad Harry Potter poi il bambino più vicino che ho sarà a Torino che dista 395 km da Venezia una volta che ho consegnato a Torino il bambino più vicino sarà a Roma che dista 500 km da Torino una volta che ho consegnato a Roma c'è un altro bambino a Roma che dista 0 km dal punto in cui mi trovo poi da Roma il più vicino tra Bari, Messina, Palermo è Bari che dista 396 km una volta che sono a Bari posso andare a Messina e da Messina posso andare a Palermo in linea d'aria con la scopa sono 150 km se lo dovete fare in macchina o in treno è un'altra storia ok? quindi l'idea qual è qua? l'idea è che io ho una serie di punti perché non scrivi? dove si scrive? no, non scrive non gli piaccio la penna vabbè ho una serie di punti lo faccio brutto col mouse sparsi per l'Italia sono in un punto devo calcolare le distanze tra questo punto e tutti gli altri punti trovare la distanza più breve che sarà ad esempio questa e spostarmi su questo punto qua e a questo punto ripetere tutto il calcolo da questo punto in avanti ovviamente escludendo il punto precedente da cui ero già passato quindi io mi vedo un bel ciclo in cui ad ogni interazione Babbo Natale fa una tappa in più e ad ogni tappa il problema è qual è la mia prossima tappa? qual è il mio bambino più vicino? ok? allora le strutture dati per questo mi devono di fatto permettere di facilitare il calcolo del bambino più vicino cioè io lo butto giù così non è ancora probabilmente non è neanche ancora preso il codice però è giusto per ragionarci se facciamo un soluzione punto pai vediamo la 2024 qui c'è già una soluzione che avevo fatto l'anno scorso facciamo fin di non guardiamola ok? io quello che devo fare è di dire io ho una certa posizione corrente che sarà un certo bambino e poi ogni volta devo per tante volte uguale ci sono bambini ancora bambini devo cercare il prossimo bambino uguale più vicino al bambino corrente questo devo fare consegna regali al prossimo bambino e poi mi sposto sul prossimo bambino quindi il bambino corrente diventa quello prossimo cioè quello che prima era il prossimo bambino diventerà il prossimo bambino corrente per il mio ciclo quindi devo saltellare una parte all'altra poi chiaramente qui ci sono ancora un mare di dettagli calcolare la distanza trovare il minimo non scegliere come prossimo un bambino che ho già scelto in passato vabbè ok lo mettiamo a posto però l'idea è semplicemente questa prendo un punto di partenza che è il bambino più a nord qua ci sono ancora bambini rimasti e diciamo a questo punto una volta che ho consegnato i doni il più vicino al bambino corrente tra i bambini rimasti e poi dopo che passo al prossimo bambini rimasti tolgo il prossimo bambino dai bambini rimasti una cosa così questo è il logoremo di alto livello quindi avrò una lista di bambini a ogni iterazione ne scelgo uno sulla base di un criterio un po' complicato ma il criterio è lo cancello e itero fino a quando ci sono bambini quindi in questo ciclo while sì ci sono ancora bambini rimasti bambino corrente guarda il bambino più a nord è facile trovare il bambino più a nord non c'è bisogno di nessuna formula basta vedere tra i bambini quale ha la provincia con la latitudine più grande giusto? la latitudine è quella a nord-sud quindi qui abbiamo prima latitudine o prima longitudine? latitudine e longitudine la prima longitudine la seconda quindi ha il numero 41 è più grande di 40 quindi Bari è più a nord di Avellino abbiamo imparato una cosa oggi è un po' scomodo perché i bambini sono io devo trovare il bambino più a nord ma le coordinate ce l'ho solamente dentro il file delle province tra l'altro di tutto questo file delle province mi serve una cosa sola data una provincia dammi le sue coordinate allora a me cosa mi viene in mente come struttura dati? che di tutto questo file qua mi faccia un dizionario che è come chiave la provincia e come valore latitudine e longitudine una tupla latitudine e longitudine basta tutto il resto non mi serve così tutte le volte che voglio sapere dove si trova un bambino io nel bambino ho la provincia faccio accesso a quel dizionario mi da direttamente senza fare nessun form nessuna ricerca mi da direttamente quei due valori che mi servono quindi mi faccio una struttura dati chiamiamola coordinate che sia un dizionario che ha come chiave la sigla della provincia mettiamola prima ma grigento e come valore la coppia latitudine e longitudine lo copio da qua perché sono pigro poi ora un'altra provincia ne prendiamo una in mezzo in fondo imperia im e ha queste coordinate quindi mi leggo questo file e mi costruisco questa struttura dati mi leggo l'altro file e mi costruisco la struttura dati bambini vabbè ma questo è facile perché se basta fare una lista di bambini cognome nome regalo provincia quindi magari lo faccio come dizionario cognome nome mi manca una parente di graffa cognome nome regalo provincia comincio a avere quattro campi di tipi diversi preferisco chiamarli per nome anziché 0123 per quello ho pensato a un dizionario e quindi nel caso del primo bambino il cognome è Potter il nome è Harry come regalo ovviamente una bacchetta e lui non lo sapevamo ma vive a Venezia chiusa graffa e poi il secondo bambino avrà un altro dizionario e così via quindi questo lo leggo tranquillamente dal mio file csu posso avere una lista che non tiene tutti i bambini e poi una lista più corta con i bambini rimasti dove via via li cancello quindi mi sembra avendo scelto queste strutture dati avendo scelto questo algoritmo alla fine le complicazioni stanno dentro forse la funzione più vicina allora proviamo magari a spendere due parole su come potremmo implementare la funzione più vicino che cosa riceve la funzione più vicina riceve di cosa bisogna sapere qual è il bambino corrente quali sono i bambini rimasti e quali sono le coordinate delle province e lui cosa deve trovare deve trovare tra tutti i bambini rimasti quello che minimizza una certa distanza quindi minimizza una distanza quindi se abbiamo distanza uguale mettiamo un numero molto grande come valore partente senza poi calcolo il minimo for bambino in bambini rimasti vado a calcolare la distanza if distanza tra le province se la distanza tra le province del bambino corrente e la distanza e la provincia le coordinate della provincia del bambino che sto analizzando su cui sto ciclando vado a vedere se è quindi se è distanza province del tra il bambino corrente la provincia del bambino corrente e la provincia del bambino che sto analizzando fosse minore della distanza massima distanza minima distanza minima chiamiamola allora questo è il bambino scelto allora distanza minima è uguale a questa e bambino scelto uguale bambino distanza bambino questa è la funzione al 90% ho un bambino ho l'elenco dei rimasti da qualche parte devo avere le coordinate e questo è un semplice calcolo di minimo inizializzo un valore molto grande e poi vado a confrontare la distanza tra il bambino corrente e il generico bambino preso tra quelli rimasti e vado a vedere se la distanza che ho calcolato è minore di quella che ho appena trovato finora se è minore la aggiorno e mi ricordo qual è il bambino che alla fine aveva dato la distanza minima e restituisco quella adesso poi vediamo il dettaglio restituisco il bambino nel senso di dizionario oppure l'indice della posizione in cui si trova nella lista magari più comodo l'indice adesso poi quando arriviamo al codice ci ragioniamo bene però l'idea dell'algoritmo è questa e questa funzione di distanza province è quella formula che c'è sul testo dell'esercizio ok? questo è il ragionamento appunto della prima mezz'ora non fate mai l'errore di leggere il testo e cominciare a scrivere codice pensateci immaginatelo valutate alternative le cose che vi convincono di meno provate ad entrarci dentro che vi sembrano più complicate complicate da capire altre che vi sembrano solo magari rognose ma non complicate lasciate per dopo tipo la formula lì si in qualche modo la scrive avendo i dati mi servono quattro numeri che sono due longitudini due latitudini e una tabella quello mi serve ok? allora se è così possiamo cominciare a pensare di strutturare il nostro programma tutta questa papardella qua la mettiamo in un bel commento che ci ha servito sia per capire sia perché non funziona la tavoletta grafica e quindi l'abbiamo scritto a testo e non con i disegnini allora il programma vero e proprio cosa avrà? sicuramente abbiamo detto avrà due funzioncine una che mi legge i bambini l'altra che mi legge le coordinate va bene def leggi i bambini nome file def leggi coordinate nome file e mi crea i dati così come li abbiamo descritti sopra lista di dizionari oppure dizionario di provincia poi avremo bisogno di una funzione bambino più a nord allora di che informazioni ha bisogno una funzione che mi restituisce il bambino più a nord dell'elenco dei bambini e delle coordinate poi una funzione bambino più vicino che ha bisogno di che cosa? dell'elenco dei bambini rimasti del bambino corrente vicino a chi? a me bambino corrente dell'elenco dei bambini rimasti e delle coordinate sapendo che questa funzione è il bambino più vicino calcola anche ha bisogno della funzione distanza calcola distanza tra provincia 1 e provincia 2 e per poter calcolare questa distanza bisogna anche essere delle coordinate dove ci sarà forma con i seni e i coseni e le arricci quadrate adesso una cosa che dobbiamo decidere è se queste due funzioni bambino più a nord e bambino più vicino trovano un bambino tra un elenco e cosa mi restituiscono il bambino l'elenco dei bambini è una lista di dizionari queste potrebbero restituire o l'indice del bambino che hanno trovato oppure il dizionario che rappresenta il bambino stesso cosa mi è più comodo allora sapendo che dal bambino dal dizionario è difficile rifare l'indice dall'indice è facilissimo trovare il dizionario basta accedere all'elenco mi conviene secondo me avere l'indice perché poi posso accedere tranquillamente ai campi ma poi soprattutto operazioni del tipo l'abbiamo detto qua tolgo un bambino e dei bambini rimasti se ho l'indice faccio un remove se invece ho il nome del bambino devo andarmelo a cercare tra tutti quelli e trovare di nuovo dove si trova cioè già prima sapevo dove era ma poi non ti ho dato quel dato e te lo devi ricalcolare quindi diciamo che queste funzioni restituiranno l'indice del bambino ok e non il dizionario che lo rappresenta quindi return indice bambino e anche questa restituisce l'indice del bambino più a nord uno è più a nord e l'altro più vicino a quello corrente fatto questo possiamo già facilmente immaginarsi il nostro main e chiamarlo il nostro main che cosa farà? vabbè si legge i dati quindi bambini uguali ai bambini dal file che si chiama con tanta fantasia bambini.csv poi abbiamo le coordinate leggi coordinate dal file che si chiama province.csv se non sbaglio si coordinate dopo di che trova il bambino più a nord di tutti la prima cosa che deve fare è trovare il bambino più a nord bambino corrente uguale bambino più a nord e bambino più a nord devo dare l'elenco dei bambini e le coordinate no si chiama bambini semplicemente a questo punto ho bisogno di costruire i bambini rimanenti su cui lavorare quindi i bambini su cui cercare il prossimo quali sono? sono tutti tranne lui lui il regalo gli ho già dato quindi possiamo dire print regalo a a bambino corrente poi lo stampiamo bene regalo dopo di che i bambini rimanenti quali sono? sono tutti tranne lui allora visto che facciamo questo giochino di tutti tranne lui conviene avere una lista separata dalla quale via via andiamo a cancellare quindi bambini rimanenti uguale una coppia di bambini questa lista di bambini ci servisse abbiamo faticato a costruirla ci servisse la teniamo e ce ne facciamo una coppia e da questi bambini rimanenti togliamo però non è remove è un pop perché conosco l'indice bambino corrente cioè a te ho già dato il regalo e quindi ti tolgo dalla lista se io remove togli un elemento di cui ti do il valore pop togli un elemento di cui ti do l'indice io abbiamo deciso di lavorare con indici quindi usiamo il pop quindi adesso bambini rimanenti sarà da n bambini che c'erano inizialmente e ci saranno n-1 e a questo punto cominciamo a far girare la slitta while bambini rimanenti se ci sono ancora bambini rimanenti ricordiamo che scrivere while con il nome di una lista è equivalente a dire la lunghezza della lista è diversa da zero troppa brevità quindi finché ci sono bambini rimanenti trova il prossimo e ce lo fa la funzione bambino più vicino a chi ha il bambino corrente a cui ho appena dato il regalo bambini rimanenti coordinate dunque qui sto facendo un casino perché bambino corrente sarebbe l'indice ma quell'indice non esiste più all'interno di questa lista perché l'ho appena cancellato quindi non mi va bene quest'idea qua che avevo all'inizio perché la funzione bambino più vicino dovrei salvarmi allora mentre questo bambino rimanente questo allora questo qua bambino corrente c'è che spiegarmi no? ti esce fuori il 7 il bambino numero 7 è il bambino più a nord ok? do il regalo al 7 e va bene e poi crea una nuova lista in cui questo bambino qui non c'è quindi questo valore 7 non lo posso più usare non significa più nulla perché nella lista dei bambini rimanenti alla posizione 7 ci sarà un altro bambino quello che prima era nella 8 però mi serve comunque ricordarmi anche se gli ho dato il regalo anche se non è più tra i rimanenti mi serve ricordare dove abitava magari non mi frega niente di tutto il resto ma dove abitava mi serve allora cambiamo un po' le carte in tavola ce ne siamo accorti e qui come bambino corrente non prendiamo il suo indice ma prendiamo la provincia del bambino corrente magari la funzione bambino più vicino riceve come parametro non l'indice del bambino ma il codice della provincia e quella lì ce la possiamo salvare dopo che l'abbiamo scelto bambino corrente accesso al dizionario provincia quindi quando sto per cancellare un bambino appena trovo un bambino sto per dargli il regalo sto per cancellarlo mi salvo in quale provincia si trovava così quando cercherò il prossimo bambino so da dove partire quindi questo anche il bambino più vicino ricordiamoci che come primo parametro prenderà il codice della provincia e non un indice del bambino ok a questo punto ripetiamo il stesso ragionamento se ho trovato il prossimo dico che ho mandato il regalo al prossimo e poi a questo punto mi salvo la sua provincia e lo cancello e ricomincio da capo quindi vuol dire ho dato il regalo al prossimo mi salvo la provincia che si chiama provincia del bambino corrente prossimo appunto prossimo di provincia cancello il bambino corrente dalla lista dei bambini rimanenti prossimo è l'indice quindi scusate è bambini rimanenti di prossimo provincia il prossimo non è il bambino non è il dizionario che rappresenta il bambino ma è l'indice in cui lo trovo quindi prendo i bambini il quinto bambino è il prossimo ok i bambini di 5 è il dizionario che rappresenta il bambino bambini di 5 province è Roma poi prossimo continua a essere il numero intero cancello da bambini rimanenti e a questo punto devo semplicemente cambiare nome chiamare bambino corrente una provincia bambino corrente ce l'ho già bambini rimanenti basta sono a posto direi quando torna indietro troverà che i bambini rimanenti dopo questo pop o sono finiti e quindi esce oppure c'è ancora qualcuno se c'è ancora qualcuno chiamerà provincia bambino corrente bambini rimanenti e mi trovo il prossimo del prossimo quindi questa valore del prossimo mi serve per stamparlo una volta che l'ho calcolato per stamparlo per ricordarsi la provincia in cui ho dato l'ultimo regalo e per cancellarlo dai bambini rimanenti in modo che questo ciclo wild via via si vede una lista sempre più piccola questo se non troviamo altri dettagli dovrebbe essere il nostro main la cosa a cui bisogna sempre fare attenzione perché noi in realtà stiamo scrivendo mentre definiamo che cos'è una lista che cos'è il dizionario che cos'è solo l'indice del dizionario eccetera eccetera perché come vedete ho cambiato idea tre volte mentre lo scrivevo ma fa parte del processo normale di sviluppo man mano che vai avanti ti accorgi dei dettagli e allora li metti a posto adesso proviamo a implementare un po' di funzioni così vediamo se usiamo la stessa strategia di prima io mi trovo bene così non è detto che sia l'unica ma leggi i bambini è banale abbiamo non usiamo la weed usiamo un open normale tanto non cambia niente tanto per cambiare un po' nome file lettura encoding quindi dobbiamo costruire abbiamo detto i bambini sono una lista di dizionari ok quindi bambini uguale una lista vuota for line in f estago i campi dalla linea uguale line punto r strip della barra n punto split dove è il carattere la virgola carattere separatore di separazione nella virgola e quindi posso aggiungere bambini punto append un dizionario che abbia questi campi che abbiamo detto nome cognome come si chiamavano cognome nome regalo provincia guarda copio da sopra così e cognome ovviamente non è potter ma sarà campi di 0 nome sarà campi di 1 regalo sarà campi di 2 provincia sarà campi di 3 classico ah devo anche fare attenzione perché questo qui e adesso vediamo subito in debug così questo qui visto che è un error di sintassi gli metto un commento e proviamo ad entrare in debug e vediamo cosa succede proviamo ad eseguire questa funzione mi fido abbastanza eseguo senza entrerci dentro e mi da bambini un an perché sono pirla e non ho fatto la return quindi return perché ho calcolato tutti i bambini ma poi mi sono dimenticati ok adesso bambini è una lista di dizionari cognome nome regalo provincia l'unico difetto che ha questa lista è che all'elemento 0 c'è un bambino che si chiama cognome nome perché mi è venuto in mente all'ultimo momento la prima riga del file contiene i nomi dei campi che non sono da leggere quindi vabbè questo come lo risolviamo basterà leggere e buttare via la prima riga del file quindi prima di iniziare questo ciclo for facciamo una redline della prima riga e buttiamo via il valore vediamo un po' se funziona sì adesso non c'è più il settimo bambino fantasma ok leggi bambini l'abbiamo fatta leggi coordinate leggi coordinate anche lei deve leggere il nome province ma deve estrarre solamente poche informazioni quindi f uguale open nome file in lettura encoding uguale encoding uguale utf8 f.close poi a questo punto devo creare una lista di coordinate no un dizionario scusate avevo deciso di fare un dizionario come chiave la provincia a questo punto leggo anche qua mi ricordo che la prima riga ha i titoli dei campi quindi la devo saltare ho appena sbagliato prima quindi ho la memoria buona f.readline e a questo punto le altre righe le reggo normalmente for line in f separo i campi campi uguale line punto rstrip barra n punto split sulla virgola e a questo punto devo aggiungere al dizionario delle coordinate qui non ho più i dubbi come prima la targa arriva una seconda volta quindi sono sicuro che ogni volta che leggo una riga quella mi dà una provincia nuova che non ho mai visto prima perché il file è del file delle province quindi semplicissimo io ho coordinate di codice della provincia uguale coordinate della provincia il codice della provincia dov'è? il codice della provincia è nella colonna 0 1 2 3 nella colonna 3 no c'è un campo vuoto qua in mezzo 0 1 2 3 4 vedete questa doppia virgola qua che mi frega se è il campo vuoto 4 quindi campi di 4 coordinate di agrigento uguale abbiamo detto una tupla che comprenda abbiamo detto 0 1 2 3 4 il 5 e il 6 il campo 5 e il campo 6 convertiti in float plot campi di 5 plot campi di 6 return non mi freghi più adesso me lo ricordo coordinate anche qua proviamo a lanciare vediamo se funziona leggi bambini abbiamo visto che funzionava leggi coordinate dunque c'è qualcosa che non va ah si ho sbagliato una parentesi float campi di 5 chiusa tonda float campi di 6 chiusa tonda e poi l'altra quante tonde ci sono l'altra tonda è per le tuple ok quindi ci sono queste tonde qua per il nome della funzione per la funzione float e le tonde quelle più grandi per la tupla ok rifacciamo coordinate vediamo cosa è uscito questo dizionario è detto qua ricordiamoci latitudine longitudine la prima è la latitudine quella al nord sud è quella che ci interessa di più ok quindi siamo arrivati qua bambino più a nord vabbè questo punto è facile funzione bambino più a nord è quella che deve darmi l'indice del bambino che si trova più a nord di tutti che ha il campo latitudine della provincia corrispondente a dove si trova lui maggiore massimo quindi è un calcolo di Maxwell quindi mettiamo l'indice del bambino uguale a meno uno così ci accorgiamo se per caso non lo troviamo iteriamo su tutti i bambini for bambino in elenco bambini diciamo la latitudine latitudine dai latitudine ce la posso fare massima allora sto facendo un calcolo di massimo quindi devo pre-inizializzare il valore a un valore minimo più piccolo e quindi le latitudini vanno da più 90 a meno 90 partiamo da meno 90 poi quelle italiane sono più piccole tra l'altro sono tutte positive però chi lo sa magari vediamo anche questo in America Latina e ci servono le latitudini negative sempre che partano dal polo nord se ci fosse un babbo natale che parte dal polo sud cambia tutto allora vado a vedere questo bambino vado a confrontare la latitudine del singolo bambino quindi latitudine bambino bambino in elenco bambini no scusatemi visto che devo ragionare sugli indici è meglio iterare sull'indice e non sull'elemento quindi i in range len elenco bambini in modo che possa chiedermi se il bambino di ha una latitudine che è maggiore della massima latitudine vista quindi bambino di di latitudine no non è latitudine come si chiama non la so la latitudine del bambino sono la provincia quindi prima mi calcolo la provincia elenco bambini di o l'elenco dei bambini sto iterando sull'elenco con l'indice i prendo bambino di elenco bambini di quindi singolo bambino estraggo la sua provincia e poi mi servono le coordinate anzi la latitudine di questa provincia la latitudine come le estraggo dalle coordinate indicizzandola con la provincia quindi questa è la lista dei bambini elenco bambini di è il dizionario che rappresenta un singolo bambino di provincia accede al campo dizionario del campo provincia del dizionario bambino e quindi mi da la sigla della provincia tutta questa roba qua che adesso ho evidenziata la uso come indice del dizionario coordinate che è indicizzato appunto per codice di provincia e il valore di tutto questo cos'è? il valore del dizionario che a sua volta è una tupla latitudine longitudine e la latitudine che è quella che serve a me è il primo elemento di questa tupla se vogliamo essere tranquilli lo spezziamo su tre istruzioni con delle variabili intermedie se sta roba qua è maggiore della latitudine max che ho visto finora allora ho trovato un bambino più a nord di quello che conoscevo quindi mi salvo l'indice del bambino uguale i e mi salvo la latitudine max uguale a questa qua di prima alla fine di questo ciclo for l'indice del bambino dovrebbe rappresentare quello la cui latitudine della sua provincia sia massima vediamo se è vero torniamo in debug e proviamo a arrivare fino alla riga 86 compresa allora andiamo qua bambini coordinate bambino corrente che valore esce fuori bambino corrente zero zero puzza sempre un po' però andiamo a vedere se è vero eh zero sì quello di Venezia era il primo senti non mi fido proviamo a metterlo a metà questo qua di Venezia e riserviamo il programma bambino corrente tre zero uno due tre eh ha trovato quello quindi giusto sempre consiglio di spendere sempre trenta secondi un minuto in più per verificare una cosa piuttosto che prendere per buono il primo risultato che dà no qui noi abbiamo il bambino corrente che è un intero che rappresenta l'indice del bambino più a nord adesso l'ho spostato di nuovo quindi li faccio rieseguire e la provincia del bambino corrente vedi che ho sbagliato qualcosa infatti non è bambino corrente di provincia queste errori qua saltano fuori spesso int is not subscriptable oppure is not iterable quando noi pensiamo di aver usato una lista invece c'è un indice infatti qua bambino corrente è l'indice quindi non posso devo prendere il dizionario che rappresenta il bambino quindi si chiamava ancora bambini qua di bambino corrente di questo devo stare la provincia io ho l'indice del bambino devo avere il dizionario che rappresenta il bambino e poi da lì estrago la provincia quindi se rieseguiamo questo arrivando fino alla print regalo a zero Venezia poi qui bisogna riscrivere il nome eccetera ok quindi fin qui sembra che ci siamo ah vediamo anche questa parte qua di bambini rimanenti rifacciamolo eseguire visto che è già scritto vediamo se siamo a posto bambini rimanenti dopo che ho fatto questa copia con la funzione list e il pop per rimuovere bambino corrente bambini rimanenti sono adesso qua scusate riduco un attimo lo zoom perché voglio vedere le province ecco ci sono tutti quelli che non sono di Venezia quindi abbiamo tolto quello giusto che era il primo tra l'altro ok era quello che ci aspettavamo adesso avremo il ciclo bambini wild bambini rimanenti che ce ne sono ancora tanti ce ne sono ancora sei e il lavoro da fare è dentro la funzione bambino più vicino che dobbiamo ancora scrivere al bambino più vicino abbiamo detto li passiamo la provincia del bambino corrente l'elenco dei bambini e la tabella con le coordinate non è che sia molto diverso da questo è bambino bambino più vicino rispetto a bambino più a nord l'unica differenza è qual è il criterio di confronto anche lì fa un minimo anziché un massimo della distanza semplicemente non va a confrontare un numero che ho già ma va a chiamare una funzione per calcolare quel numero quindi avremo la distanza massima distanza minima che è un certo valore che devo inizializzare chiaramente è un numero molto grande numero grande adesso ci aggiungiamo un attimo poi avrò la posizione l'indice del bambino l'indice del bambino che sarà diciamo anche qua cominciamo con meno 1 come valore per indicare che non ho ancora trovato e poi via via lo troverò e poi avrò il mio ciclo for bambino anzi i in range perché anche qua lavoriamo sull'indice range lang elenco bambini ricordiamoci che questo è già l'elenco ridotto dei bambini quindi ho solo quelli che sono rimasti che sono rimasti e devo calcolare la distanza tra chi la distanza calcolata è la distanza tra la provincia del bambino corrente ma ce l'ho quindi abbiamo calco la distanza tra la provincia del bambino corrente che è proprio un mio parametro e la provincia del bambino iesimo la provincia del bambino iesimo la sappiamo estrarre perché prendiamo l'elenco dei bambini estraiamo il bambino iesimo estraiamo la sua provincia poi come terzo parametro di questa funzione devo passare anche le coordinate perché la funzione poverina ha bisogno di saperle e a questo punto distanza ha calcolato questo se distanza minima se questa distanza che ho calcolato distanza è più piccola della distanza minima la aggiorno e la salvo distanza minima uguale a distanza e indice bambino uguale a i return indice bambino a parte del numero grande che non so cosa mettere e per capire che numero devo metterci devo un attimo ragionare su cosa mi dà questa formula di distanza cioè solo per dire è in metri o in chilometri questa roba qua perché a seconda dell'unità di misura chiaramente dovrò scalarlo no? andiamo a vedere un attimo il testo mi dice che queste distanze vabbè la stampa me le stampa in chilometri mentre invece la formula mi dà questa formula con la distanza 2 per r per axing e questa r me la indica come valore in chilometri quindi possiamo immaginare che questo sia in chilometri quindi questa funzione di distanza lavora in chilometri e quindi la massima distanza che può esserci tra due punti sul pianeta Terra sono vabbè il diametro della Terra sono 40 milioni di chilometri giusto? no 40 milioni di metri 40.000 chilometri più o meno vuol dire due punti qualunque non potranno mai essere più distanti di 20.000 chilometri ma noi siamo 50.000 come se la Terra fosse un po' più cicciona e possiamo fare il giro in terra intanto è un valore di cui dobbiamo essere sicuri che la funzione di distanza mi calcoli un valore che sono sempre minori di questo quindi esagerare non è un problema 50.000 chilometri boh questo è un normalissimo calcolo di minimo che si basa su questa funzione di distanza che viene calcolata allora vediamo se funziona la logica del programma io vi propongo per vedere se funziona la logica del programma di barare facciamo finta che la distanza sia calcolata solo sulla latitudine e non in base alla formula complicata così ci mettiamo qua dentro una formula che scriviamo in una riga e proviamo il programma completo non è detto che mi dia i bambini veri nel percorso giusto ma poi quando tutto funziona sostituisco alla formula fake di una riga la formula vera ma a quel punto tutto il resto del programma e lavoro provato cambia solamente quella formula lì cioè costruiamo quello che in generale si chiama uno stub una funzione che ha la stessa interfaccia ma si suscite dei dati fasulli potrebbe essere fasulli anche del tipo return 7 no? oppure un dato calcolato in modo semplice non reale ma che mi permette di andare avanti con il programma mi serve quella funzione quella funzione è complicata da calcolare non ho tempo non ho voglia non ho testa facciamola che ritorni qualche cosa che permetta comunque il programma di andare avanti forse anche un random e poi dopo ci penso ok? allora noi adesso calcoliamo qualcosa che non sia troppo complicato troppo distante no? cominciamo a estrarre le cose che ci servono provincia 1 provincia 2 quindi ho le sigle delle province guarda per aiutarmi visto che nel testo le chiamavo punti A e B anziché 1 e 2 fatemela chiamare provincia A e provincia B tanto al chiamante non interessa come le chiamo e mi calcolo la latitudine di A uguale cosa? mi calcolo la latitudine di B la longitudine di A e la longitudine di B che poi calcolo è una parola grossa ce l'ho già scritto nella tabella coordinate quindi la latitudine di A che cos'è? le coordinate della provincia primo elemento la longitudine è coordinata ricordiamoci coordinate di provincia la provincia è in cos'è la provincia le coordinate sono una tupla la latitudine di longitudine quindi primo elemento è la latitudine il secondo elemento sarà sarà la longitudine provincia scusate questi casini poi l'altra cosa è uguale ma con la provincia B coordinate di provincia B di 0 coordinate di provincia B di 1 possiamo fare come dicevo una funzione sbagliata che mi ritorni l'altitudine A meno l'altitudine B in valore assoluto è una distanza quindi deve essere sempre positiva facciamo finta ok? poi qui dobbiamo mettere la formula completa ma se calcola questa distanza a questo punto l'algoritmo si che ne sa lui calcolerà la serie di bambini le cui posizioni minimizzano minimizzano gli scarti di latitudine sa cosa esce fuori ebbè 1 0 2 0 non mi dice molto miglioriamo un attimino le print cominciamo a mettere anche solo la provincia Venezia Torino Roma Roma Bari Palermo Messina che alla fine è uguale a prima però ha senso no? un po' minimizzare gli scarti di latitudine se facessimo le scarti di longitudine che di nuovo non ha senso ma per vedere se cambia qualcosa da Venezia non si sposta più a Torino ma si sposta a Roma che come longitudine viene incontrata prima spostandosi dall'est verso l'ovest quindi in qualche modo visto che Venezia è anche all'estremo est praticamente si sta spostando dall'est verso l'ovest nel suo viaggio e il massimo dell'ovest lo trova alla fine a Torino poi quegli indici lì vedete che sono indici ripetuti ma non voglio dire nulla perché il bambino 1 a un certo punto non è lo stesso bambino 1 dell'interazione successiva perché ogni tanto li cancelliamo quindi qua adesso dovremmo stampare i nomi per dire che tutto questo meccanismo qui andiamo a rivedere che meccanismo abbiamo messo in piedi noi abbiamo un main che ti dice ogni volta calco il bambino più vicino rispetto al alla provincia del bambino corrente lo prende lo stampa e lo cancella il bambino più vicino lo tengo a cosa? semplicemente calcolando il minimo della funzione calcola distanza tutto il resto deve essere la logica per fare il minimo per estrarre la provincia eccetera eccetera la funzione calcola distanza cosa fa? estrae le coordinate delle due province e gli applico una formula e sulla base della formula che applico avrò un certo ordine dei bambini adesso ciò che devo fare ancora è copiare la formula del testo allora innanzitutto ci sono un delta latitudine un delta longitudine e queste cose qua devono essere espresse in radianti e non in gradi quindi devo fare due calcolini queste qua sono espressi in gradi per farli diventare radianti devo fare diviso 180 per pi greco no? per mat.p diviso 180 diviso 180 mat.p magari lo importiamo ops non volevo grandire volevo andare su import mat e questo per pi greco su 180 così li abbiamo i radianti poi abbiamo il delta latitudine e delta longitudine che erano nella formula delta latitudine uguale latitudine b meno latitudine a lat b meno lat a delta longitudine uguale longitudine b meno longitudine a a sto punto dovremmo poter applicare la prima riga della formula che calcola questo h h uguale cos'è? seno al quadrato di delta lat mezzi mat.seno di delta lat diviso 2 al quadrato poi più coseno di latitudine a coseno latitudine b vabbè più mat.cos latitudine a per per mat.cos latitudine b poi per seno al quadrato di delta longitudine mezzi ok per mat.sen di delta longitudine diviso 2 al quadrato l'ho fatto l'ho fatto formatare il codice e l'ho messo su due righe con delle parentesi tonde per poter andare a capo nella formula se avete formule lunga e volete andare a capo le mettete tra parentesi così quando andate a capo lui non capisce che la formula continua questo è h era a qua vero? grazie poi alla fine mi dice di calcolare la distanza vera e propria che è 2 per r per l'arseno della radice quadrata di h ci credo e quindi distanza uguale 2 per r che sono 6.371 6.371 per l'arseno della radice quadrata mat.arxin di mat.sqrt di h questo è una distanza eccola qua e se non abbiamo fatto casini salta fuori questo ordinamento che è quello del testo adesso bisogna solo un attimo mettere a posto la print in modo che non stampi gli indici ma stampi i nomi dei bambini ma questa è una cratinata la mettere a posto nel main quindi scriverò print un f stringa è regalo e poi metto il nome del regalo quindi chi regalo vuole è quel bambino lì allora abbiamo bambini di bambino corrente di regalo a il nome del bambino e qui è un po' lungo scrivere questa cosa ma bambino corrente cognome poi ci metto il nome e poi ci metto la provincia la parentesi la provincia questa stessa print ce l'ho qua come primo bambino e poi ce l'avrò anche come prossimi bambini solo che la differenza è che anziché dalla lista bambini devo prendere bambini rimanenti quindi le vado a modificare qua 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 quindi commentando le print brutte lasciando quelle belle se sono giuste ho sbagliato qualcosa perché non ha senso che sì perché non è bambino corrente è prossimo i problemi di copia e incolla sono sempre questi che copia e incolla e poi ti dimentichi di correggere tutto ok così mi piace di più nel testo ci fa ancora vedere che ti stampa anche la distanza tra ciascun bambino e quello successivo non lo farei nell'ultimo minuto che si rimane ma anche qua è banale perché basterà qua nel main di chiamare di nuovo la funzione di distanza di due province e mi dice quanti chilometri ci sono in mezzo lo aggiungo poi diciamo così nel pomeriggio ma non cambia la complessità dell'esercizio se posso riassumere la strategia generale andate per gradi un pezzo per volta lo provate e lo testate ma prima dovete cercare di costruirvi in mente la strategia generale se un'esercizio di questo genere uno mi avesse fatto tutto e poi questa funzione calcola la distanza che era quella che aveva spaventato tutti perché c'erano le formule me l'avesse lasciata vuota andava quasi bene se invece uno si incapponisce magari su questa funzione perché lo spaventa eccetera e non ha fatto tutta la strategia generale dell'algoritmo che sta intorno magari ha fatto questa funzione perfetta ma poi se non ci sono le strutture dati dell'algoritmo che ci lavora e chiaramente il valore del compito è molto inferiore va bene vi lascio meditare su questo esercizio e sugli altri oggi pomeriggio ricordate di fare oggi e domani il laboratorio su Moodle e settimana prossima andiamo avanti con gli esercizi